Buongiorno, buon pomeriggio. L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme la soluzione del laboratorio della settimana scorsa che riguarda sostanzialmente un esempio di tema d'esame. Quindi, il tema d'esame, come avete visto e come potete vedere su altri temi d'esame che sono presenti sulla pagina del corso, normalmente parte da un grafico che è stato pubblicato da qualche parte e che può avere alcune limitazioni. In questo caso, un grafico del 2014 è apparso su una rivista online. Non entro nel dettaglio per il momento, ma scorro sostanzialmente la struttura del tema d'esame. Il passaggio successivo è quello di fare un'analisi. Secondo, diversi aspetti. La domanda, quindi se c'è una domanda a cui il grafico risponde, se è evidente, oppure se non si capisce bene qual è l'obiettivo del grafico. La valutazione dei dati, la qualità e se supportano correttamente la domanda che viene posta. E poi gli aspetti visuali, ovvero la proporzionalità, l'utilità e la chiarezza. Dopodiché, il redesign. Quindi, come possiamo andare a fare un redesign. Come sarà strutturato l'esame? Allora, all'interno dell'esame ci saranno sostanzialmente tutte queste parti. Vi verrà dato il grafico di partenza, vi verrà chiesto di fare un'analisi. Vi verrà chiesto di dare delle linee guida generali su come possono essere risolti i problemi di questo grafico. Quindi, non fare un redesign vero e proprio, ma andare a dare delle indicazioni su come potreste pensare di fare il redesign. E poi ci sono ovviamente le domande di teoria. Una volta finita questa prima parte dell'esame, che viene fatta, ve lo ricordo, come al solito tramite exam, tramite il Respondus Doctor Home Browser, inizia la seconda parte. La seconda parte è svolta a casa. Il redesign lo dovete fare realmente, quindi dovete andare a scrivere il codice R per realizzarlo. E dovete poi andare a consegnare il vostro progetto di redesign. Normalmente entro alcuni giorni, diciamo 3-5. Dico 3-5 perché dipende un po' da eventuali altri. Allora, adesso volevo vedere un attimo il prossimo appello che giorno capita. Così vediamo. Allora, l'appello è il 23. Diciamo che di mezzo c'è poi San Giovanni, un weekend. Quindi, ragionevolmente, la consegna potrebbe essere, diciamo, entro lunedì, 28. No, scusatemi, mi sto confondendo con un altro appello. Quindi è giovedì primo. Giovedì primo, ecco, il problema è analogo, ma in realtà c'è un venerdì, c'è un weekend di mezzo, quindi potrebbe essere o lunedì 5 o martedì 6. Quindi avete un po' di tempo per andare a fare il vostro redesign. Questo vuol dire che non lo fate di fretta, potete studiare, potete trovare delle soluzioni. E' plausibile che durante il redesign pratico, magari vi accorgiate che alcune delle indicazioni che pensavate fossero ragionevoli all'inizio, magari non erano così ideali, quindi quello che dovete fare è innanzitutto fare un redesign che corrisponda alle linee guida che avete dettato all'inizio. Dopodiché potete, se siete invogliati, a migliorare queste linee guida per ottenere un redesign che sia il meglio che riuscite a ottenere. Quindi è normale che non consegnate un unico grafico di redesign, ma magari ne consegnate un paio, che ci siano delle varianti. Quindi diciamo che ci sono un po' di possibilità. domande. In quel caso dobbiamo fornire altre spiegazioni? Beh, io mi immagino che nell'applicazione, l'app, oppure nel documento Markdown che consegnate, riportiate sostanzialmente i ragionamenti che avete fatto durante l'esame. Vi verrà inviato il pdf con quello che avete fatto durante l'esame, quindi avrete quello a disposizione. E poi andate a commentare dicendo rispetto a quella soluzione ho modificato questo, ho aggiunto quest'altro, ho identificato quest'altra soluzione a cui non avevo pensato durante l'esame, che ha questi vantaggi o svantaggi. Quindi non è che dovete scrivere chissà quanto, ma due righe andando a indicare perché una soluzione viene proposta o perché una soluzione viene variata rispetto a quello che avevate all'inizio. Altra domanda, nelle indicazioni del redesign possiamo dare delle varie possibilità? Certo, potete andare a indicare un paio di possibilità indicando quali sono ragionevolmente vantaggi e svantaggi. È ovvio che se mi elencate tutti i possibili grafici, tutte le tipologie possibili di grafico, ci azzeccate prima o poi in quello che può andare bene. Se avete un paio di possibilità, andando a indicare pro e contro, poi è ovvio che scrivendo non è la stessa cosa che avere il grafico davanti, per cui alcuni dettagli, magari alcune limitazioni, è difficile immaginarle senza vedere il grafico realizzato davanti. Quindi io mi aspetto che ci sia una certa coerenza tra quello che voi proponete e quello che andate a realizzare, non la perfetta identità. domanda, qual è la procedura per consegnare il redesign dopo averlo completato? È sostanzialmente analoga ai laboratori, quindi voi avrete un reposito i git che conterrà il codice di partenza, diciamo codice di partenza, il tema, eventuali dati, e in quel reposito voi dovete andare a inserire il vostro redesign, facendo il commit e il push sul reposito. Questo reposito vi viene creato dopo l'esame e riceverete l'email con le indicazioni di questo reposito. Non aspettatevi che avvenga l'esame, sarà al pomeriggio, quindi non aspettatevi che la sera stessa venga inviato l'email, se riusciamo lo facciamo, ma eventualmente arriverà la mattina dopo, per l'email c'è anche l'indicazione esatta con la scadenza della consegna. Domanda, quindi uno può modificarlo in continuazione su git e poi io lo guardo dopo la scadenza, sì. Quindi prima della scadenza potete fare quello che volete, potete farlo, disfarlo, modificarlo, quante volte volete. Alla scadenza io mi copio in locale tutto quello che avete fatto e poi nei giorni successivi lo guardo. Quindi se immaginiamo, adesso devo ancora decidere però indicativamente, che entro le 23 di lunedì 5 voi dobbiate consegnare, io l'undi mattina, mercoledì, cioè martedì mattina, mercoledì, eventualmente giovedì, guardo il tutto, quindi indicativamente tra mercoledì 7 e giovedì 8 vi pubblico i risultati. Vi lascio 24 ore di tempo per decidere se accettare o rifiutare. Mandate un'email ovviamente soltanto se volete rifiutare e dopodiché scaduto a questo ulteriore tempo i voti sono registrati in maniera permanente, ovviamente non con la data dell'8-9 quello che sarà, ma con la data del primo. Quindi per i problemi di scadenze per la laurea il vostro voto è un voto che avete conseguito il primo luglio. E quindi prima di tutte le scadenze di varie lauree. Bene. Ok, allora, non vedo altre domande in chat, quindi direi che riprendiamo il nostro tema d'esame, stavolta entriamo nel merito e andiamo a ragionare su quali sono vantaggi e svantaggi. L'argomento è dove ci sono le donazioni, rispetto a dove effettivamente abbiamo delle malattie che hanno molte vittime. Iniziamo a... Lascio il diagramma qua, così lo vediamo, e provo a spostare il tutto così. Vediamo se riusciamo a farlo così. Forse così riusciamo a vederlo tutto abbastanza. Benissimo. Allora, primo aspetto, meglio vederlo qua ancora, primo aspetto. Esiste una domanda, più domande a cui risponde il nostro grafico. Allora, non vuol dire che deve esserci un punto interrogativo da qualche parte, vuol dire che deve essere evidente qual è l'obiettivo del nostro grafico. Quindi, quello che io vi chiedo è di provare a riscrivere la domanda implicita, spesso, con parole vostre. Quindi, la domanda è relativamente chiara, in questo caso, qui, l'allineamento tra... Qual è l'allineamento tra i fondi raccolti con varie iniziative per combattere le malattie e la pericolosità o il tasso di mortalità delle stesse malattie. I dati sono validi? Supportano la domanda qual è la qualità? Allora, forse ve lo faccio vedere su una tabella che riusciamo a vederlo meglio. Vi allargo anche un po' il testo. La struttura dell'analisi dei dati è questa, quindi c'è una caratteristica di qualità e c'è la relativa valutazione. Io qui ho risposto sì, no, ma potrebbe esserci anche in parte, nel senso che se non è una decisione netta, va bene. I dati sono accurati? Allora, ragionevolmente, le cifre relative ai morti, ragionevolmente arrivano da dati ufficiali. Le statistiche sui fondi arrivano da, c'è scritto, gli enti no profit, vedete qui, Death Statistics from CDC Report, il CDC è il centro americano per la salute, per le malattie. E qui, Money Raised from Listed Charities sono delle organizzazioni che sono registrate come organizzazioni di no profit, diremmo in italiano, e quindi hanno un bilancio ragionevolmente pubblico e quindi quei dati lì ragionevolmente di nuovo sono corretti. Il secondo aspetto, la completezza. Abbiamo tutti i dati che ci servono. In questo caso, ecco, probabilmente no, nel senso che non ci sono domande. Questo è un mondo chiuso o aperto. Allora, volendo, uno potrebbe dire che per quanto riguarda le malattie, potremmo dire che è un mondo chiuso, nel senso che da qualche parte c'è un elenco di tutte le malattie possibili. Salvo poi saltare fuori una malattia tipo COVID-19 che fino a due anni fa non esisteva, ma ora c'è. Però, diciamo che sulla parte, sull'elenco di malattie quello potrebbe essere un aspetto di mondo chiuso. il problema è che non è ovvio andare a capire quali possono essere incluse e quali no. Per cui, quali sono mortali e quali no, è difficile tracciare la linea. Per cui, il raffreddore comune, lo mettiamo dentro oppure no? Probabilmente no. Per quanto riguarda le charities, anche lì abbiamo quelle registrate. Potrebbero esserci altre organizzazioni che raccolgono fondi e che però non sono ufficialmente registrate oppure compaiono magari non come charities o come altre cose. Quindi, potenzialmente questo potrebbe essere un mondo chiuso. quindi potremmo andare a elencare tutte le malattie. Il problema è che non tutte le malattie ragionevolmente vanno a finire qua dentro. Domanda. Riguardo l'accuratezza, si può dire che i dati sono open world? Sì e no, nel senso che, come ho detto, in teoria potrebbero considerarlo un mondo chiuso. Nella pratica, però, non sappiamo dove andare a mettere i limiti. Quindi, è come se fosse un mondo aperto. Però sicuramente è una considerazione che potete fare. Altra osservazione, il fatto di avere solo i fondi dei maggiori enti non è un problema di completezza? Esattamente. Per cui, non è detto, allora, è difficile capire dalla descrizione qua money raised from listed charities. Quindi, non so se sono tutte le organizzazioni elencate come associazioni no profit oppure soltanto le principali. per cui, allora, sicuramente non abbiamo tutte le malattie, ok? In questo caso, indipendentemente dal fatto che sia aperto o chiuso il mondo. Sui fondi, ecco, potrebbero esserci tutti, potrebbero esserci soltanto, non so, le associazioni no profit, ma non magari quelle governative o quelle finanziate in altro modo. So, la Croce Rossa, per esempio, o altri centri di ricerca, magari potrebbero raccogliere dei fondi, ma non comparire in questo elenco. Quindi, anche questo è un problema di completezza. Quindi, completezza qui ho detto no, perché in generale dal lato delle malattie sicuramente non è completo. Dal dato dei fondi probabilmente non è completo. Consistenza. Tendenzialmente sì, nel senso che diciamo che le malattie per cui si raccolgono i fondi rispetto alle cause di morte ragionevolmente sono gli stessi. Almeno nel grafico hanno lo stesso nome. Quindi immagino che siano coerenti. a rigore il suicidio non è una malattia. Per cui dietro potrebbero esserci tante cause. Quindi io ho messo sì nel senso che è più sì che no però ecco questo non è esattamente una malattia una malattia e quindi non è completamente consistente. La currency ovvero l'attualità dei dati tendenzialmente sì non c'è scritto esattamente il dato da la data di preievo delle informazioni però possiamo immaginare che si riferiscano all'anno precedente. Quindi ragionevolmente sono gli ultimi disponibili. Potrei confrontare i dati rispetto a un anno prima un anno dopo però sostanzialmente non mi aspetto che ci siano dei grossi stravolgimenti in questi aspetti. Domanda noi teoricamente dovremmo fare dei paragoni tra le aree delle malattie e quelle dei fondi. La differenza di unità di misura non potrebbe essere un problema di consistenza? Allora è un problema di consistenza se io vado a confrontare dollari con persone. Qui in realtà quello che io vado a confrontare sono proporzioni di dollari con proporzioni di persone. O torno un attimo sul grafico quindi qui ho due aspetti uno chi è più in alto per cui da una parte abbiamo breast cancer dall'altra abbiamo heart disease quindi abbiamo un ranking un ordinamento e quindi confronto un ordinamento con un altro. Ha senso fare ordinamento in questi due diciamo sottoambiti? Ragionevolmente sì quindi a questo punto faccio un confronto tra due ordinamenti e quindi questi sono consistenti. Il secondo tipo di confronto che posso fare è la proporzione quindi la dimensione delle varie bolle qui è un po' più delicata nel senso che essendo incompleto non so il totale quindi io immagino che la somma tra virgolette delle aree delle bolle a sinistra e delle aree delle bolle a destra faccia uno ok io questo lo posso immaginare non l'ho verificato graficamente per cui in realtà io confronto o dei ranking o delle percentuali delle proporzioni quindi in quest'ottica non c'è un problema di consistenza allora domanda l'articolo del 14 dati del 2011 quindi avevo messo che i dati non sono proprio recenti allora non mi ricordo dove sono i dati del 2011 è scritto qua che sono del 2000 allora scusate ah hai ragione 2011 è scritto qua sì allora torno al discorso dell'attualità sono relativamente recenti nel senso che sono di tre anni prima non recentissimi quindi diciamo che non è un problema significativo nel senso che se ci fossero dieci anni di distanza allora ecco sì a questo punto avrei problemi di 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 attualità in questo caso sì potrebbe essere non non ideale però non è perfetto però non è un problema particolarmente serio ok anche perché ripeto non immagino che non ci siano variazioni enormi da un anno all'altro quindi avere dati del 2011 rispetto a dati del 2013 perché se date del 2014 ovviamente i dati io ce li ho soltanto nell'anno precedente non nell'anno in corso quindi sono due anni di vecchi di due anni rispetto ai più recenti quindi non sono attualissimi ma sono relativamente recenti quindi sì è giusto mettere una notazione ma non lo considererei come un problema significativo altra domanda questo riguarda direi la consistenza può essere un problema il fatto che i morti si indica specificatamente gli US mentre per i fondi no e quindi potrebbero essere fondi globali allora teoricamente sì immagino che qua stiamo facendo diciamo organizzazioni non profit registrate negli Stati Uniti di nuovo non è scritto esplicitamente però lo prenderei come un'assunzione ragionevole ok poi concordo che sarebbe stato meglio scriverlo e così si evitano problemi ribalto l'analisi che stiamo facendo se voi andate a mostrare dei grafici o mostrare dei dati in generale e fate un'analisi di questo tipo sui vostri dati ecco quello è una buona checklist per capire che dettagli andare ad aggiungere e che dettagli probabilmente mancano rispetto a avere un quadro completo ok quindi è molto facile molto facile è più facile andare a criticare i grafici altrui però poi questo deve essere uno stimolo a fare autocritica su quello che uno va a costruire quindi prendete questo schema di analisi come un qualcosa che applicate qui a cose fatte da altri ma ragionevolmente può essere applicato anche a quelle che fate voi in futuro credibilità i dati si dice sono citate le fonti che sono fonti ufficiali quindi ragionevolmente direi che sono credibili comprensibilità si capisce a cosa fanno riferimento i dati beh da un lato sono totale di fondi raccolti dall'altro sono morti il legame è il tipo di malattia dove in realtà non tutte sono malattie ma per cui direi ragionevolmente è abbastanza facile da capire poi per carità possiamo entrare nel dettaglio e andare a dire sì ma sono i fondi raccolti oppure sono i fondi che sono stati destinati una volta detrate i costi della campagna per se volessimo entrare a questo livello di dettaglio qui non abbiamo questa informazione ok per cui uno può andare nel dettaglio quanto vuole e trovare qualche problema però a livello macroscopico per quello che ci vuole raccontare questo grafico ha senso tra l'altro parla di percezione delle persone quindi non importa tanto quanti soldi sono andati a finire ma quanti soldi le persone hanno donato quindi qual è la sensibilità delle persone nel donare i soldi rispetto a quello che è la pericolosità delle diverse malattie quindi direi in termini di comprensibilità è tutto abbastanza chiaro vi faccio un esempio se andiamo a prendere il laboratorio dell'altra settimana dove c'erano il numero di diagnosi per data di diagnosi per data di prima diagnosi o per data di primi sintomi ecco lì la comprensibilità era un po' più complicata nel senso che non sono esattamente la stessa cosa c'è un certo ritardo tra uno e l'altro che varia a seconda di quanti tamponi venivano fatti o vengono fatti quindi lì effettivamente capire esattamente il significato di quelle misure del perché quelle più recenti non sono affidabili perché sostanzialmente non ho ancora informazioni eccetera quello effettivamente potrebbe essere un problema di comprensibilità qui in questo caso specifico direi di no vi ho fatto l'esempio di che cosa potrebbe essere complicato da comprendere giusto per avere un termine di paragone precisione allora domanda i fondi sottinteso che sono fondi annualmente e che non sono donazioni totali accumulate allora di nuovo sì mi aspetto che ci siano i decessi di un anno e i fondi cumulativi di un anno i fondi raccolti in un anno è ovvio che potrebbe anche non essere così nel senso che i dati dal grafico non si può capire se effettivamente è così però mi pare un'assunzione ragionevole che non va contro quello che è scritto lì quindi sì mi aspetto che siano fondi raccolti in un anno rispetto a decessi in un anno ragionamente lo stesso se non fosse così effettivamente avremmo dei problemi di consistenza il fatto che questo che vi possa venire il dubbio ecco può essere uno stimolo per andare a verificare se i dati sono effettivamente così oppure se voi fornendo queste informazioni a specificarlo esplicitamente in modo da evitare possibile ambiguità precisione allora vedete che qui abbiamo questi sono numeri precisi perché sono variabili di tipo assoluto misure di tipo assoluto qui abbiamo milioni in alcuni casi o il punto nell'altro caso non sempre quindi qui ho 85 quindi ho due punti due decimali dopo la virgola diciamo in generale sì nel senso che due forse fin troppo probabilmente dove non c'è è perché è sottinteso che c'era uno zero diciamo che è un problema di se volete di coerenza interna grafica più che di dato in sé ok però è ovvio che se qui avessi cifre che riportano fino al al dollaro ecco probabilmente avrei una precisione elevata perché qui parlando comunque di milioni non avrebbe senso beh qui io poi ho commentato un po' vabbè i suicidi eccetera ma direi che quello proporzionalità ok lascio perdere quello che è scritto qua e torno sul grafico proporzionalità è complicato andare a dire perché se andiamo a vedere non so la bolla verde qua e la bolla blu qua dovrebbe essere circa 3 a 1 vi sembrano 3 a 1 io a occhio direi di meno ma è normale andare a confrontare dimensioni di bolle è un confronto tra aree quindi la legge di Stevens ci dice che questo è un problema quindi non non funzionano bene sì ci sono le etichette di fianco ma se volete un un principio fondamentale è che un grafico sia tra virgolette graficamente autosufficiente cioè se io eliminassi tutte le etichette e tutti i valori sono in grado di andare a stimare i rapporti probabilmente in questo caso no quindi direi che non ci siamo in termini di proporzionalità poi volendo possiamo andare a prendere il centimetro e andare a misurare sul grafico ma ragionevolmente a occhio abbiamo già delle difficoltà ok quindi abbiamo problemi di percezione utilità ci sono gli elementi che sono presenti sono utili o sono ridondanti allora le etichette direi che sono utili anzi sono fondamentali perché senza quelle non riusciremo a fare un confronto preciso i colori sono importanti perché altrimenti non riusciremo a legare lo stesso lo stesso tipo di malattia da una parte e dall'altra anche perché qui diciamo nel grafico principale non ci sono i nomi delle malattie quindi la presenza di colori è importante è fondamentale l'etichetta abbiamo detto ci servono questi trattini qua non sono particolarmente utili ma sono veramente poco indicativi a rigore non servono ma per il resto diciamo che c'è praticamente tutto ok allora lo sfondo il fatto che questo giallino qui sia abbastanza simile allo sfondo sì è un problema lo metterei più come un problema di chiarezza che come di utilità però sì c'è un problema di scusate di limitato contrasto tra lo sfondo e i valori direi che è più un problema di chiarezza che di che di utilità allora qui lo sfondo è uniforme quindi magari la pagina era fatta così quindi lo sfondo colorato diciamo che in generale non è mai utile per cui se volete anche quello potrebbe essere qualcosa che non ci trasmette alcuna informazione il fatto poi che lo sfondo sia abbastanza simile a uno dei colori ecco quello lo metterei diciamo nella voce successiva ovvero chiarezza altro problema di chiarezza c'è il fatto che qui ho la leggenda e qui sotto ho i dati e ovviamente se andare a prendere questo violetto qua devo tornare quassù e a questo punto è motor neuron disease oppure HIV vedete che qui sono vicini a questo punto io mi sono già dimenticato qual è quello più chiaro ok per cui torno su quello più chiaro è motor neuron disease e l'altro è HIV quindi motor neuron disease e HIV che le ritroviamo di qua però con ordine invertito per cui c'è un problema di chiarezza dovuto al fatto che ho una leggenda separata e qui non ho riportato i nomi ho i numeri ma non ho riportato i nomi i colori sono ragionevolmente abbastanza ben distinti e quindi non ecco questi due violetti qua vicini li trovo è più difficile ricordarmi a cosa significhino ma quello è un problema della leggenda e quindi tutto sommato in termini di chiarezza a parte il problema della leggenda che è da una parte e i dati che sono dall'altra ragionevolmente funziona devo poi andare ovviamente a fare il match tra le linee le bolle da una parte dall'altra per cui ragionando già in termini di redesign se ci fosse un collegamento non sarebbe male quindi proporzionalità utilità e chiarezza domanda i nomi delle fondazioni è utile a rigore ok a rigore direi di no nel senso che non è così fondamentale però dà un po' di contesto quindi nell'economia del grafico potrebbe essere ammesso in generale mi dà un'informazione in più che permette di collegarmi meglio al tipo di iniziativa questa dell'ice bucket probabilmente la ricordate di qualche anno fa quindi con i secchi di ghiaccio in testa per raccogliere fondi domanda la la questione dell'inganno nel confronto di aree non va in chiarezza allora visto che c'è la proporzionalità tendenzialmente allora visto che parliamo di proporzionalità scusate sto leggendo i due commenti quando parliamo di proporzionalità possiamo mettere sotto la proporzionalità la proporzionalità geometrica ok o estendere la proporzionalità andando a considerare anche la proporzionalità in termini percettivi quindi se la proporzionalità la consideriamo in senso lato il fatto del confronto tra le bolle è un problema di proporzionalità se lo vogliamo considerare in senso stretto quindi esclusivamente come una proporzionalità geometrica allora ricade soltanto nel primo e quindi i problemi di percettivi nel confronto tra le aree vanno a finire in termini di chiarezza non sono così stringente sul dove vanno messe questi aspetti ok potrebbero essere interpretati in modo dell'altro l'importante è che da una parte o dall'altra sia evidente che questo problema è emerso altra domanda per la clarity essendoci più di sei colori risultano essere troppi sì in effetti avere l'etichetta qua risolverebbe il problema sarebbe stato meglio avere sfumature della stessa tinta non avrebbe risolto il problema della chiarezza quindi concordo sulla prima parte nel senso che essendo otto colori diversi devo andare avanti indietro per ricordarmi il colore quindi sono troppi il fatto che potrei risolvere il problema utilizzando sfumature diverse no nel senso che le sfumature sono utili se io voglio andare a rappresentare una qualche variabile ordinale per cui ragionevolmente quello non è una possibile soluzione però sì i colori sono troppi domanda la proposta dell'etichetta al posto dei colori va fatta nella clarity o direttamente nel redesign allora potete iniziare il problema nella clarity potete già anticiparlo l'importante è che poi quando nel redesign cerchiate di indicare che avete fatte delle scelte specifiche per risolvere problemi che avete iniziato sopra quindi se vi ripetete un po' non è un problema meglio ripetersi piuttosto che dimenticare qualcosa ok poi tenete conto che insomma adesso scorro un attimo però io qui ho cercato di essere il più dettagliato possibile ma questo è già molto dettagliato perché parte di queste cose qui sono già nella tabella per la proporzionalità l'utilità e la chiarezza vedete che abbiamo veramente due righe quindi non dovete andare a scrivere chissà quanto quindi basta accennare il problema in modo che sia chiaro a che cosa vi riferite ok redesign allora vado direttamente sul redesign allora prima possibilità ho due barre divergenti due diagrammi a barre divergenti affiancati con da una parte le morti e dall'altra parte il funding posso ordinare per morti decrescenti o per funding questo è un modo abbastanza semplice di andare a fare un confronto tra due serie di dati non troppo numerose in cui effettivamente voglio andare a vedere la coerenza o la correlazione se preferite ovviamente questo pulsantino qua ce l'abbiamo soltanto se rendiamo il grafico interattivo altrimenti bisogna andare a mettere due diagrammi separati per quanto riguarda il punteggio allora scusate torno un attimo su no non qua ma bensì qui visto che se parliamo di esame allora la prima parte abbiamo 15 punti tre domande di teoria più 12 punti di analisi del caso di studio quindi abbiamo domanda dati proporzionalità utilità chiarezza quindi sono 12 punti su queste 5 domande sono un paio di punti ciascuno diciamo che i dati sono un po' più complicati quindi saranno almeno 3 punti e gli altri dipende dalla complessità però indicativamente due punti per ciascuna delle domande poi abbiamo 17 punti per la visualizzazione ok questi 17 punti tengono conto anche dell'ultima parte che dovete fare online cioè andare a indicare come pensate di ricostruire il grafico ok quindi anche la ragionevolezza di quello che proponete va a finire in quei in quei 17 punti difficoltà allora non ho capito la domanda la difficoltà era in linea con quello di esame ok intanto finisco la mia frase sui 17 punti quindi abbiamo un pezzo almeno un paio di punti relativi a il senso la ragionevolezza di quello che proponete nella prima parte dell'esame gli altri punti riguardano i restanti 15 punti di grosso modo riguardano come avete realizzato la vostra visualizzazione di quello che sostanzialmente avete fatto a caso 15 punti vuol dire che avete fatto un lavoro impeccabile di questi 15 punti a seconda del del caso specifico di studio se sia più o meno importante diciamo che da 3 a 5 punti sono legati alla interattività e quindi voi potreste anche fare dei grafici puramente statici con ggplot senza nessuna interazione quindi senza shiny il problema è che vi perdete l'ultimo pezzo ok tanto per darvi un quadro generale la complessità di questo diagramma di questo tema d'esame è questo era un tema d'esame quindi è analogo a quello che potrebbe essere un tema d'esame futuro per cui sì indicativamente la difficoltà è questa e poi non sono tutti uguali ovviamente magari alcuni richiedono un po' più di lavoro per il diagramma alcuni un po' meno tenete presente che comunque la mia votazione non è sempre uguale identica per ogni tema d'esame è ovvio che se c'è un tema d'esame che richiede un grafico molto complicato ne tengo conto durante la valutazione se il tema d'esame è molto molto semplice che richiede un grafico banale è ovvio che magari vado a vedere i minimi dettagli che magari nell'altro caso peso decisamente di meno ok per cui avere anche solo un ordinamento fatto in un modo o nell'altro ecco questo può essere utile perché mi dà due prospettive diverse sui miei dati altra possibile soluzione è un diagramma a pendenza quindi uno slope chart dove qui abbiamo le morti e qui abbiamo i findings e questo è decisamente più complicato rispetto a quello precedente da realizzare per cui ovviamente se uno realizza un grafico più complicato verrà premiato non cercate di fare un grafico complicato a prescindere perché deve essere deve avere senso l'ordinamento scusate le scale che trovate qua possono essere fatte in maniera diversa questa è una scala puramente lineare dove qui abbiamo la scala lineare del numero di morti qui abbiamo la scala lineare dei funding posso utilizzare una scala logaritmica vedete che qui heart disease e breast cancer sono staccati tantissimo degli altri quindi se uso una scala logaritmica vedete che a questo punto sono tutti un po' più equidistanti e non sono troppo separati ok altra possibilità invece di utilizzare la scala logaritmica uso semplicemente il rank ovvero la posizione ordinale all'interno di una dimensione oppure dell'altra quindi rank è la terza possibilità vedete a questo punto ovviamente essendo numeri interi i rank sono tutti equidistanziati e quindi da un punto di vista visuale ho meno sovrapposizioni tra le etichette allora domanda io ho già dato una visualizzazione che mostra un indice donazioni ricevute per decesso in questo modo è evidente il disarignamento ma si perdono i dati totali di donazioni morti andrebbe bene o potrebbe essere usata solo come supporto a un redesign potrebbe andar bene è ovvio che perdendo dei dati non è perfettamente soddisfacente però se tu mi accompagni due diagrammi a barre come questi non necessariamente con il doppio ordinamento non necessariamente come si dice divergenti però mi metti morti fondi e poi il tuo indice di rapporto tra donazioni per decesso oppure uno di questi due grafici più il tuo indice in modo da avere una prospettiva un po' più completa altra possibilità avevo fatto uno scatter plot mettendo sugli assi 16 fondi fondi raccolti facendo notare che la correlazione è quasi inesistente anche questo può andare non mi ricordo se no non ce l'ho qua ci avevo pensato ma non l'ho messo poi qua nella soluzione sì posso avere sulle x donazioni dall'altro i decessi e vedere che potete fare una una retta di correlazione e vedere che i punti in realtà sono molto distanti da questa ipotetica retta di correlazione anche quello ecco quello è il vantaggio che ho entrambi i dati sì può essere anche quella una soluzione allora altra domanda se si fa la percentuale di ogni valore di death e funding rispetto al loro totale poi le percentuali si possono abbinare in un bar plot sì anche quella potrebbe essere una soluzione quindi ricorda diciamo come come impostazione vagamente questa in cui le aree sono proporzionali alla percentuale di morti o donazioni da una parte dall'altra ok la percentuale può essere utilizzata come indice dovete ricordarvi di andare a riportare possibilmente i dati iniziali anche solo come etichetta anche solo eventualmente in over quindi andandoci sopra visualizzare io qui la soluzione che ho fatto è di avere i dati statici l'unica interattività è data da cambiare l'ordinamento però volendo adesso qui sono pochi quindi mettere un over può essere utile ma fino a un certo punto quando ho più dati è utile che i dati vengono visualizzati soltanto quando ci vado sopra altrimenti è un pasticcio unico l'importante è che cerchiate comunque di riportare i dati di partenza e poi andarli a visualizzare in una maniera corretta allora questo allora altra domanda tra le alternative ho pensato di fare due differenti diagrammi a barre dove su uno riporto i dati dei fondi e l'altro i morti assegnando alle barre diversi colori in base alle malattie e quindi controllo si fa grazie allo stesso colore o alla malattia può andare bene allora sicuramente è un passo avanti rispetto alle bolle i colori possono essere utili ma non non devono essere gli unici devo avere anche è importante è importante che ci siano anche delle etichette che mi facilitino la corrispondenza quindi potrebbe dipende un po' dal dettaglio della realizzazione però in linea di principio va bene l'importante è che ci sia una corrispondenza quindi ci siano anche i nomi delle malattie in modo che sia facile poi leggere i dati sì ok col diet il labelling sì quindi in linea di principio potrebbe andare un allora un dubbio che mi è venuto è sulla perdita informazioni delle manifestazioni ah ok la manifestazione scusa non avevo capito subito quindi intendi le manifestazioni qua allora nel redesign non l'ho messe perché mi sembravano un dettaglio in più però nulla vieta qui di andare a riportare anche le manifestazioni le manifestazioni un po' più importanti di quella campagna di raccolta fondi sì di nuovo come non ricordo chi lo faceva notare prima le manifestazioni non sono un'informazione particolarmente importante infatti io prima dicevo concordo danno un po' di informazioni in più ecco questo è veramente un dettaglio che uno può decidere di mettere dentro oppure lasciare fuori ed è abbastanza marginale quindi ci stanno entrambe le soluzioni a questo punto vado velocemente sul codice così vediamo un attimo come sono fatti non ho fatto niente di sofisticato di brush di over ok ma ovviamente in alcuni casi può aver senso qui non è che avesse molto senso anche perché i dati erano relativamente pochi allora allora innanzitutto qui ho le librerie Tidy vs Shiny Patchwork domanda io ho fatto esattamente come Francesca quindi le barre ma invece di utilizzare dei colori diversi avrei voluto utilizzare una palette sfumata il problema è che quasi tutti avevano un colore molto simile al bianco per cui bisognava traslare le sfumature allora è difficile trovare una volendo puoi avere puoi andare a specificare una palette tipo gradiente andando a specificare i due colori estremi che potrebbero essere due colori con la stessa la stessa la stessa tinta in cui diciamo quello più chiaro non è troppo chiaro da essere confuso col bianco e gli dici quante 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 intervalli vuoi credo che sia gradient scale color scale fill gradient altrimenti devi andare a scegliere quelli predefiniti per cui distiller ad esempio dove vai a scegliere una serie di fosfumature quindi scale color distiller potrebbe anche essere un'altra variante andando a scegliere un colore che ragionevolmente si distingue abbastanza allora ecco scusate l'altra libreria che ho utilizzato si chiama gg repel che è sostanzialmente la libreria che serve per andare a mettere qui non è un problema ma se vado qua su linear vedete che qua le etichette si sovrappongono quindi gg repel va a mettere le etichette ma le sposta in modo che non si sovrappongano tra di loro ok quindi ho usato quella libreria per questo specifico scopo poi ho un blocco di lettura dati quindi leggo dati e vado a leggere insomma this is money and that's quindi il file CSV con i dati di base è abbastanza facile qui poi ho messo sostanzialmente il radio button con l'ordine di l'ordinamento delle barre del pulsante che abbiamo messo e qui sotto c'è invece il il grafico scusate il grafico a barre adesso provo a ingrandire un attimo così forse si riesce a vedere un po' meglio il grafico a barre ve lo metto anche qua di fianco così si vede meglio allora sort order lo metto di tipo reactive che dipende dal pulsante sopra e poi faccio un render plot e qui ho i dati faccio innanzitutto un disorted quindi vado a calcolare un data frame dove faccio mutate disease uguale factory order di disease e qui vado a mettere d quindi i dati che ho letto quadre quadre e l'ordine il fattore di ordinamento che abbiamo visto può essere death o money poi ho i due gg plot quindi plot death e plot money e qui sotto il più ricordate il patchwork che quando sommo due plot li mette uno a fianco all'altro qui è un diagramma a barre molto semplice con la scala x reversed quindi questo alla scala x orientata verso sinistra invece che verso destra evito di mettere le label verticali perché le metto soltanto sull'altro grafico metto il title che è quello che viene messo qua su in alto e poi ho il text con sostanzialmente i dati per fare in modo che i dati scritti sopra la barra e non a sinistra abbiano un colore bianco metto color uguale death maggiore della media dell'intervallo di range e faccio mappo questo questo attributo colore su uno scale color manual black and white e quindi la combinazione di questo estetica di colore e questa scala fa in modo che ad esempio l'etichetta qua sia scritta in bianco mentre invece tutte le altre etichette sono scritte team minimal e poi qui ecco un dettaglio panel grid major y quindi vado a indicare la la griglia principale sul lungo l'asse y e metto element blank quindi non metto una griglia verticale metto soltanto la griglia orizzontale quindi corrisponde all'asse orizzontale perché è inutile che abbia una griglia qua tanto ho già le barre l'altro è praticamente identico semplicemente qui ho mani qua su avevo death ho un colore di riempimento che in questo caso ho scelto essere il sea green quel verde che vedete lì testo che sono le etichette la scala di colore per fare il bianco quando si sovrappone alla barra titolo la scala ecco qui ho usato label dollar dove il prefisso è dollaro e il suffisso è milioni in modo da avere il tutto scritto in maniera corrente minimal anche qui evito l'etichetta ecco piccolo dettaglio per avere le etichette dell'asse verticale che cosa faccio vado a mettere text y e vado a mettere h giusto uguale a 0.5 quindi allineo al centro ok e poi vado a mettere l'etichetta dell'asse y ovvero questo disease quassù in cima angolo 0 perché altrimenti me lo scrivo in verticale e vado a mettere come margine destro meno 60 in modo che me lo sposti in qua e non stia più a destra e poi sommo i due ottenendo questo quando vado a modificare l'ordinamento il reactive risponde e quindi mi scatena il rendering di nuovo del plot per il nostro per l'altro diagramma quello lo slope chart di nuovo un radio button molto semplice col tipo di scala e qui allora bene commento uno poi magari guardate con calma il codice qui ho un plot in cui ho un gg plot dove non ho messo l'asse x o l'asse y ok ho messo sostanzialmente un colore e basta poi ho messo un germ point dove la y è death e la x è la scritta quindi l'etichetta death quindi sono andato sostanzialmente a creare due valori possibili sull'asse x che sono death e funding fissi per tutti i valori di death e per tutti i valori di funding visto che i due i due valori alla fine usano la stessa scala che cosa ho fatto ho definito una una funzione che converte i valori di money in una scala che sia compatibile con quella di death ovvero ho fatto in modo che il massimo valore di money corrisponda al massimo valore di death e il minimo valore di money corrisponde al minimo valore di death per cui se andiamo a vedere ve lo apro un po' più grande qui vedete che qui in alto il massimo e il massimo sono sostanzialmente allineati eppure qui sotto il minimo e il minimo sono allineati quindi i punti di sinistra i punti di destra e poi vado ad aggiungere anche i segmenti geom segment richiede sostanzialmente quattro estetiche oltre a y e x anche y end e x end quindi il punto di partenza è il punto di arrivo e sono i tratti che avete qua scala x discreta ho messo qui un expansion in modo da lasciare un buon margine di spazio sia a sinistra che a destra per farci stare queste etichette qua la scala di colori ho utilizzato scale color brewer per le etichette su un'asse e sull'altra ho utilizzato geom text repel che è quello che vi dicevo è la variante di geom text che evita di sovrapporre le etichette direction mi dice dove posso spostare l'etichetta both vuol dire che posso spostare sia in alto che in basso che in sinistra e a destra e poi qui ho messo un x lim che mi dice i limiti entro cui i limiti dell'asse x entro cui posso andare a spostare le etichette quindi da meno 3 che è un valore insomma qui a sinistra a 1 che è il primo valore sull'asse x stessa cosa per le etichette relative a funding dove ho un x lim che va da 2 a 5 quindi 2 è secondo valore e 5 è molto più ho poi aggiunto un'altra scala in questo modo quindi quando io faccio scale y continuous vado a mettere delle etichette label number si è un qualcosa che mi mette i suffissi km eccetera e ho aggiunto questo che è un asse secondario che è quello che vediamo qui sulla destra l'asse secondario è definito da una funzione di conversione e da un'etichetta la funzione di conversione d to m è l'inverso della conversione m to d che ho usato qua sopra perché qui deve sostanzialmente andare a convertire le posizioni le etichette del della diciamo dei valori di death in valori di money mentre invece qua deve prendere il valore di money e convertirli in valori che siano compatibili con l'etichetta di death poi qui è complicato dal fatto che ho due scale una nel caso logaritmico l'altra nel caso continuo però sostanzialmente sono esattamente identiche semplicemente qui ho utilizzato una scala log 10 e qui una scala continua molto più semplice il caso del ranking perché una volta che ho calcolato il rank non devo fare conversioni di assi perché comunque il ranking avendo 8 categorie varia tra 1 e 8 esattamente identico quindi non devo avere l'asse secondario è tutto un po' più semplice altra possibilità come si menzionava prima posso avere due assi x e y che corrispondono alle due dimensioni di fondi e di decessi e andare a vedere che rispetto a così la retta di regressione che che tiene la media tutto i punti sono sparpagliati e non sono vicini a questa retta e quindi non c'è sostanzialmente una una correlazione tra queste due grandezze in un caso di diagramma x y ecco probabilmente potrebbe essere utile andare a fare un degli eventi di tipo over oppure di di brush per andare a selezionare e visualizzare le informazioni specifiche di alcuni punti io qui ho utilizzato un documento markdown ok quindi html document e ho messo come runtime shiny la soluzione potrebbe essere fatta anche utilizzando un'app va benissimo quello che preferite stavo pensando se devo dirvi altro beh no più o meno questa soluzione qua è questa domanda possiamo utilizzare tutti i package che vogliamo sì ok non non sbizzarritevi troppo perché poi rischiate di complicarvi la vita però se c'è un package che vi torna utile lo volete utilizzare va benissimo ok in ogni caso se io lo eseguo mi dice che un package non c'è per cui se io non ce l'ho installato lo installo e va bene è importante che cerchiate di utilizzare però ancora qui adesso non ce l'ho sì ce l'ho qua su R4 verificate di avere R4 0 eccetera e di avere RStudio almeno 1.2 adesso io qui ho una versione abbastanza vecchia ma per cui più che RStudio è importante R che abbia una versione almeno 4 perché sostanzialmente la versione 4 di R ha introdotto alcune incompatibilità con le versioni precedenti la 2 e la 3 però se avete installato R da poco dall'inizio del corso sicuramente avete la 4 a questo punto io tenderei a chiudere è qua vi pubblico magari un altro tema d'esame senza soluzione vi metto anche la soluzione del lotto dovrebbe essere sul laboratorio sul codice che è dentro gli esempi ma controllo che sia sul sito quindi pubblico questa soluzione pubblico la soluzione ufficiale e verifico che l'otto sia pubblicato sul sito vi ricordo giovedì pomeriggio il seminario dalle 17 alle 18 comunque vi mando un'altra email di reminder che è sostanzialmente la chiusura del corso vi pubblico un altro tema d'esame che potete svolgere nel frattempo tendenzialmente lunedì prossimo non farei lezione ufficiale ma sono a disposizione per consulenza quindi se pensate che possa esservi utile diciamo che attivo la virtual classroom e sono aperto a vostre domande quindi se volete condividere il vostro il vostro il vostro schermo o chiedere consigli o problemi diciamo che quindi è un orario di consulenza e non di lezione con questo chiudo vi ricordo che sono aperti i questionari del comitato paritetico della didattica quindi vi invito a compilarli vi chiederei prima di iniziare a compilare i questionari di provare a scrivere su un foglio di carta quattro o cinque modi concreti di migliorare il corso e ovviamente non lasciarli sul foglio di carta ma scriverli nei commenti liberi del questionario in modo che possano servire a noi per migliorare il corso negli anni successivi ultima domanda un barplot con un dodge potrebbe essere stato giusto allora sicuramente meglio della versione originale il problema è che se io inizio a mescolare le due barre riesco a vedere in parte la correlazione ma un diagramma divergente è un po' più facile da notare però sì può essere una soluzione accettabile ok in generale la raccomandazione è pensate a qualcosa che sia ragionevole e corretto che magari pensate come avete idea di come possa risultare durante l'esame durante l'esame quando siete poi a scrivere il codice vero e proprio oltre a quella soluzione lì pensate se ci sono altre soluzioni alternative che magari sono migliori quindi soluzioni aggiuntive rispetto a quella che avete proposto vanno benissimo dimostratemi soltanto che la soluzione che avete proposto è ragionevole e realizzabile poi mi auguro che riusciate a fare tutte le migliorie e individuare eventuali soluzioni alternative ragionevoli quindi ovviamente proporre soluzioni alternative è un qualcosa di sicuramente positivo ok direi che abbiamo raggiunto il termine dell'orario quindi stop la registrazione grazie